Le video notizie di distribuzione moderna Presentiamo una stagione veramente ricca sia di quantità di mele prodotte e di altra frutta e di qualità che finalmente dopo l'anno molto difficile dello scorso anno con la gelata che ci ha tolto molta produzione è tornata sui suoi livelli standard e quindi disponiamo di tante mele di altissima qualità sia estetica che organolettica. Noi come Melinda siamo leader, orgogliosamente leader in Italia e il primo obiettivo ovviamente è quello di consolidare questo mercato che è per noi quello che ci dà più soddisfazione e denota proprio la capacità degli italiani, la volontà degli italiani di cibarsi sempre al meglio. Ovviamente viste le produzioni e visto comunque il contesto mondiale stiamo cercando anche nuovi paesi a cui affiancarci a cui ovviamente proporre le nostre mele. Fra tutti quello che oggi ci sta dando soddisfazione piena è la Spagna che guarda caso è molto simile all'Italia sia come comportamenti che come abitudini alimentari. Ovviamente un occhio anche ai nuovi paesi sia del Middle East che dell'Africa a cui vorremmo destinare ancora più prodotto di quello che riusciamo a fare in questo momento. Le nostre celle ipogei, cioè quelle celle frigorifere scavate nella roccia dolomia dove in maniera unica al mondo riusciamo a conservare le nostre mele sono l'esempio, la ciliegina sulla torta di una filosofia sostenibile che stiamo percorrendo. Sono un orgoglio, sono un'unicità mondiale e quindi per noi sarebbe un orgoglio poter portare più persone possibile in Val di Non sul nostro territorio e far vedere loro, proprio toccare con mano questo progetto e quindi vorremmo, se riusciremo ad aprire nel corso del 2019 proprio perché diventi per noi un elemento importante per far vedere la nostra realtà importante e per tutto l'intero Trentino e per la Val di Non un nuovo centro turistico dove venire e scoprire questa agricoltura trentina che pensiamo sia all'avanguardia mondiale.